Bene, vediamo come funzionano gli asset a basso rischio. L'asset a basso rischio che cos'è? E' il risultato del lavoro svolto dal trader più il piano. Quindi che cosa il trader più il piano sono in grado di produrre insieme? Aspettate, metto la camera un po' più grande perché questo è un discorso che si fa così, così ci vediamo meglio. Quindi andiamo a studiare la qualità della gestione. Noi chiamiamo questo dato livello qualitativo della gestione. Come ho già spiegato in altre occasioni, da una parte studiamo la sezione tecnica dell'asset, quindi che cosa il piano di trading è in grado di produrre sulla carta. Se vediamo che il piano funziona sulla carta lo affidiamo al trader, ok? E poi si vede al trader che cosa è in grado di produrre. Lo sesto piano, affidato a 10 trader diversi, 20 trader diversi, produrrà invariabilmente 10 o 20 risultati diversi perché la componente costituita dal trader è una componente di una variabile importante, ok? Il piano ha il compito quindi di mettere nella giusta direzione il trader ma non assicura un risultato uguale ad un altro trader, ok? Il trader quindi deve lavorare su se stesso per migliorarsi, diciamo da un punto di vista professionale, a sufficienza per poter produrre una buona gestione. Il risultato di quella gestione, che appunto indica il lavoro che il trader piava sul in grado di produrre insieme, noi lo chiamiamo livello qualitativo della gestione e indica l'andamento, la qualità dell'asset finanziario che è appunto il risultato di tutto questo lavoro. Noi abbiamo tre tipologie di asset nella community per tre scopi diversi. Adesso vedremo come funziona l'asset a basso rischio, ma abbiamo anche gli asset diversificati e poi i progetti trading che sono asset più rischiosi, adatti ai trader che ormai hanno una certa esperienza, ok? Vediamo di capire un attimo il termine asset che significa. L'asset indica un insieme di azioni messe in opera in sinergia per produrre un risultato, ok? Quindi noi ci impegniamo a mettere a punto una serie di azioni, queste azioni, per avere un risultato. Quando vediamo che la cosa funziona, allora siamo pronti per produrre con un capitale maggiore e poi con un capitale ancora maggiore. Perché il vantaggio del trader, il vantaggio del trading, chiedo scusa, è che noi possiamo aumentare la produzione aumentando il capitale. Non abbiamo bisogno di investire in personale, non abbiamo bisogno di investire in macchinari costosi. Investiamo, mettiamo al lavoro il capitale, è il capitale che lavora per noi. Ma abbiamo bisogno di maturare una certa capacità per mettere in opera queste azioni che poi fanno muovere il capitale, ok? Questo lavoro è un lavoro all'inizio delicato, abbiamo bisogno di tempo, anche qualche anno per mettere a punto a un certo livello tutto questo. Ma una volta che l'abbiamo messo a punto, nessuno può toglierci questa capacità. E la capacità di far lavorare il capitale per noi è una capacità che da un punto di vista economico funziona e può dare accesso appunto a una certa soddisfazione da questo punto di vista. Ma dobbiamo essere disposti a spendere un po' di tempo, un po' di lavoro, qualche anno per studiare e arrivare poi a un certo livello, ok? Ognuno nella community, io dal 2014 ho avviato questo progetto e ho capito che ognuno ha esigenze diverse. C'è chi ha esigenze più modeste che va benissimo e sono compatibili con quello che andiamo a fare e quindi naturalmente impiega meno tempo, studia un annetto, si dedica poi a mettere in opera la gestione e raggiunge, diciamo, con una certa facilità quello che gli interessa. Poi c'è chi ha bisogno, ha interesse verso risultati più importanti, allora lì il percorso è un po' più lungo, insomma. Ecco, ma comunque è un percorso possibile. Io quello che ho cercato di fare nel progetto è mettere a disposizione gli strumenti che avevo messo appunto per me, per i miei obiettivi e questi consentono appunto di creare questi tre asset, gli asset a basso rischio, che sono asset semplici. Un asset indica il lavoro che il trader è in grado di fare con il piano su un singolo mercato. Quindi, per ipotesi, Stefano più il pianorione sull'euro-dollaro, che cosa sono in grado di produrre insieme? Si costruisce quindi uno storico. Questo storico indica gli errori che commette il trader e naturalmente anche i vantaggi del trader, che cosa è effettivamente in grado di produrre, si riferiscono in questo modo degli obiettivi di profitto e delle cifre che indicano appunto il rischio massimo di ogni gestione. Perché abbiamo delle indicazioni nel piano, ma poi si vede il trader se commette qualche errore in più, qualche errore in meno. Dallo storico si può vedere che cosa il trader commette, quali errori commette e il mio lavoro poi nella community è dare dei consigli perché riesco a individuare dallo storico cosa commette, quale errore si porta dietro in modo da poterlo correggere. In questo modo, con i giusti interventi, l'asset diventa sempre più affidabile. E questo lo facciamo insieme nei team di lavoro della community. Poi abbiamo gli asset diversificati. Gli asset diversificati prevedono l'uso di più asset a basso rischio, i migliori che possiamo avere messo a punto, per farli lavorare in sinergia. Questo consente di distribuire il rischio per moltiplicare i risultati. Ne parleremo in un'altra occasione, ma nel blog ho condiviso articoli e video anche sugli asset diversificati. Poi infine abbiamo i progetti di trading, che sono asset più rischiosi. Prendiamo l'asset a basso rischio migliore che abbiamo, quindi che porta a quell'insieme di azioni che effettivamente portano a dei risultati, e andiamo a studiare un asset più rischioso per utilizzare quelle azioni per giungere a uno specifico obiettivo di profitto entro un tempo limitato. Mentre l'asset a basso rischio e gli asset diversificati sono concepiti per garantire continuità nella gestione, l'asset costituito dai progetti di trading invece si pone un obiettivo ben preciso, un obiettivo di profitto entro un tempo definito. È però un'attività più rischiosa, adatta a chi ormai ha prodotto i propri asset a basso rischio, ha una buona esperienza e dedica il proprio tempo anche a raggiungere specifici obiettivi di profitto. Quindi come per esempio far crescere un piccolo capitale e avere poi a disposizione un capitale di produzione maggiore. Con un po' di tempo, un po' di lavoro, si possono fare tante cose. Quello che serve è l'interesse, un interesse concreto verso questa attività. Oggi ho registrato un video anche sul libro di Brian Tracy. Mi piace molto quel libricino. Lui spiega che è un requisito fondamentale per ogni attività impegnarsi all'apprendimento di lungo termine. Se noi ci impegniamo ad apprendere sul lungo termine, acquisiamo le competenze che poi producono risultati sul lungo termine. Se invece facciamo le cose un po' grossolane e di corsa, azioni affrettate portano problemi di lungo termine. Questo è quello che insegna Brian Tracy. Io ho sempre utilizzato le sue indicazioni di business alla lettera e sono davvero utili. Suggerisco i suoi libri, sono davvero eccezionali. Vabbè, è stata una chiacchierata per spiegare un po' come funzionano gli asset finanziari del nostro settore e come possono essere costruiti. Questo primo corso nel canale YouTube è una versione semplificata del corso di startup che abbiamo nella community e deve servire per fornire un'idea chiara di come funziona il business. E come ho già detto in tante occasioni, l'obiettivo di queste condivisioni è assolto anche se tutto questo può aiutare a maturare una maggiore consapevolezza nelle persone e magari alcune di queste persone possono dire ho capito come funziona il trading, forse non è cosa per me. Bene, mi fa piacere. L'importante è non buttare soldi in azioni affrettate perché l'attività di trading è un'ottima cosa ma non è un'ottima cosa per tutti. Non tutti sono interessati a questa cosa. Magari molti si avvicinano perché vengono attirati dalle pubblicità, pubblicità che vendono un'idea frivola del fare soldi che naturalmente non c'è nel settore, non è la realtà del settore, è la realtà di una pubblicità frivola e priva di alcun fondamento. Naturalmente poi mi fa anche piacere intercettare, perché poi è lo scopo della community, quelle persone che dicono, ah ok, è così che funziona il trading, quasi quasi io ci investo il mio tempo perché l'investimento maggiore è in termini di tempo e di lavoro. Non ci sono investimenti di tipo economico, sono molto molesti insomma ecco e quello che ci serve è qualche libro e al limite la partecipazione alla community che costa 45 euro al mese. Punto. Non ci servono corsi costosi, i corsi intensivi, un altro problema è i corsi intensivi. I corsi intensivi che costano tanto, di pochi giorni, spesso, io l'ho fatti tanti, spesso è difficile raccogliere i frutti di quei corsi perché non abbiamo la possibilità di raccogliere tante informazioni così velocemente. Invece il progetto, io per come l'ho concepito, deve servire per assicurare un lavoro di lungo termine. Se noi non pianifichiamo attività di lungo termine insieme per tirar fuori dei risultati, non si aggiungerà mai dei risultati, ok? Altrimenti le università non dovrebbero cinque anni, no, e dovrebbero cinque giorni. No, è una cosa scontata, però per qualche ragione nel nostro settore le persone si dimenticano delle cose ovvie. Per apprendere un'attività, per diventare competitivi e sempre più capaci, serve tempo. E un po' di lavoro, principalmente questo. Non servono grandi investimenti e neanche un'attività impossibile, ok? Bene, rifletti su questo, riflettete su questo e poi avremo modo, insomma, di approfondire altri temi. Buon lavoro e a presto. Buon lavoro e a presto.